Musica Carburanti alle stelle e anche il caffè al bar cede ai rincari, schizza alle stelle il prezzo del carburante in attesa che la classe politica intervenga per aiutare la popolazione, costretta a fare i conti in tasca e a far quadrare il bilancio familiare. Da oggi anche il caffè al bar subirà dei rincari, trasformando quello che è il rito italiano per eccellenza in un vero e proprio lusso. Rifiuti greco sia in house ma restano i dubbi? Il sindaco greco conferma che la soluzione per il nuovo servizio rifiuti è quella dell'in house alle impianti SRR. Il primo cittadino però ribadisce i suoi dubbi su questa opzione che comunque ancora permangono. Intanto dagli uffici delle impianti SRR dovrebbe a breve arrivare il cronoprogramma per giungere all'inizio del servizio. Il cartodromo pronto a rinascere opportunità per il territorio. Dopo ben quattro tentativi portati avanti negli ultimi anni il libero consorzio di Caltanissetta ha affidato il cartodromo di Contradazai. La struttura abbandonata da anni nel degrado è stata affidata per i prossimi 15 anni alla Finmedia, società editrice di TeleGela. Una scommessa che nasce da una grande passione e dalla voglia di investire sul territorio. L'obiettivo è quello di rilanciare la struttura non solo per le sue enormi potenzialità legate alle manifestazioni sportive, ma anche e soprattutto come sede di grandi eventi e concerti dal vivo. Maggioranza alleati per verifica. Italia Viva fa il punto. Gli alleati del sindaco Lucio Greco in una fase di incertezza politica attendono un segnale per un confronto. È ritenuto necessario alla luce di quanto verificato sia anche in aula consigliare. I renziani di Italia Viva intanto nei prossimi giorni faranno le loro valutazioni. Impianto petroltecnica, sì, regione e modifiche AIA. La regione ha autorizzato le modifiche all'AIA, già rilasciata alla società petroltecnica che opera in raffineria. L'azienda gestisce un impianto per il trattamento di terre di bonifica contaminate. I tecnici dell'azienda hanno chiesto di rivedere alcune delle prescrizioni inserite nell'autorizzazione integrata ambientale. Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Schizza alle stelle il prezzo del carburante in attesa che la classe politica intervenga per aiutare la popolazione costretta a fare i conti in tasca per far quadrare il bilancio familiare. Da oggi anche il caffè al bar subirà dei rincari trasformando quello che è un tipico rito italiano per eccellenza in un vero e proprio lusso. Sentiamo. Sale il carburante a 2 euro. Schizzano in alto i prezzi sia di gasolio che di benzina. E i consumatori chiedono l'intervento della politica che quantomeno agevoli la popolazione riducendo tasse ed IVA. Il bazzo stratosferico di questa settimana del petrolio è un'evidente speculazione di chi scommette cinicamente sul blocco delle importazioni dalla Russia. Stop che ad oggi non c'è. La gente risparmia anche sul carburante, comunque non ci sono più pieni di una volta, c'è molto meno consumo, anche perché i prezzi sono veramente impressionanti. La cosa più sconvolgente è che il prezzo del gasolio alla vendita è più caro della benzina, cosa che non è successo quasi mai. Forse una volta hanno pareggiato i prezzi, ma mai c'era sempre un differenziale di 10 centesimi. Adesso il gasolio è più caro, non sappiamo veramente che cosa fare, come muoverci. Siamo in balia delle quotazioni internazionali e noi siamo l'ultima ruota del carro e purtroppo i consumatori finali peggio ancora, perché poi alla fine tutto va scaricato sui consumatori finali. La benzina è così caro, non si è mai visto. Purtroppo, quello che se ci prendiamo, è che possiamo fare qualcosa. Possiamo fare, dovrebbe fare, c'è il governo, ma siccome il governo ci mette la sua e che soffre, soffre la popolazione. Non lo so fino a che punto si può camminare. A causa dei continuamenti di trasporti, rialzi delle materie prime, importazione logistica e caro bollette, diventerà un lusso anche il piacere per l'eccellenza dell'italiano, quello del caffè che potrà raggiungere il costo di 1,50 euro. È tutto di pari passo, dal gasolio è tutto a catena ovviamente, dal caffè alla farina, al grano, così a livello internazionale, però purtroppo che dobbiamo fare? Se vogliamo il caffè paghiamo quel poco in più e ci beviamo il caffè, se no stringiamo e con un euro del bar me lo faccio a casa per un mese. Ci sono problemi, con tutti questi prezzi che aumentano, tutto, ci stanno portando proprio all'estremo, tutto qua. Secondo lei quale sarebbe la soluzione? La soluzione è che si mettesse d'accordo a mettere i prezzi giusti, non così. Anche nei lavori, i lavori stessi i prezzi non aumentano mai, rimangono sempre come sono. Quindi non c'è un equilibrio tra il costo e lo stipendio che percepisce una famiglia? In base di stipendio oppure non ce la fa lo stesso. A che cose aumentano, però il prezzo dello stipendio è quello. Quindi non ce la può fare né ora né mai. Un rito, un'abitudine, un vizio, una scusa, una necessità. Il caffè al bar è per molti un appuntamento fisso a cui dovranno rinunciare per fare economia. Dovranno aumentare anche gli stipendi perché se no non si può andare avanti. I bar, settore già grandemente danneggiato dalle chiusure durante il periodo pandemico, rischiano di perdere così circa il 32% del fatturato che il caffè produce. Diamo uno sguardo ai numeri del contagio. Risale seppur lievemente il numero dei contagiati da Covid in città. I dati delle ultime 24 ore sono stati diffusi con un certo ritardo da aspe. In città i nuovi casi in isolamento domiciliare sono 106, i guariti invece sono 84. Un paziente di Gela e uno di Riesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Asp comunica il decesso di un paziente di Caltanissetta positivo al Covid. In città in totale i contagiati sono 894. I numeri del contagio da Covid in città non sono più quelli fuori controllo registrati tra fine 2021 e inizio 2022, però bisogna comunque mantenere l'attenzione anche davanti a un incremento che si registra negli ultimi giorni. I consiglieri comunali di Forza Italia, Rosario Trenito e Carlo Romano, chiedono che l'attenzione non scemi. Secondo i consiglieri forzisti, uno dei nodi nevralgici rimane quello delle scuole. Dopo settimane di decrescita della curva, i consiglieri sono certi che l'attenzione debba essere assoluta. Il sindaco Lucio Greco conferma che la soluzione per il nuovo servizio rifiuti è quella dell'inaus alle impianti SRR. Il primo cittadino però ribadisce dubbi su questa opzione che comunque ancora permangono. Intanto dagli uffici delle impianti SRR dovrebbe arrivare il cronoprogramma per giungere all'inizio del servizio. Il sì al nuovo servizio rifiuti in aus che lunedì è stato formalizzato dal sindaco Lucio Greco e dall'assessore Cristian Malluzzo ha fatto ripartire buona parte delle procedure anche negli uffici delle impianti SRR. I tecnici della società che ha ottenuto l'affidamento in tutti i comuni dell'ambito potrebbero trasmettere il cronoprogramma richiesto dal municipio già entro oggi. Il sindaco Lucio Greco ha sempre avuto molte perplessità sul servizio in aus. Intanto partito a Deglia, Butere e Mazzarino. Ieri è arrivata inoltre la firma dell'amministrazione comunale di Riesi. Nonostante la scelta di affidarsi all'inaus, l'avvocato Greco continua a ritenere che il servizio dovrà assicurare tutti i necessari standard qualitativi con la massima efficienza. L'intenzione è mettersi alle spalle quanto accaduto negli anni con Tecra. Greco spiega di aver dovuto necessariamente affidare il servizio di raccolta rifiuti nel regime di in-house providing proprio alle impianti SRR. Il tentativo di arrivare ad una gara solo per il lotto locale non è stato accettato per motivi che Greco ritiene strettamente legati ad aspetti burocratici difficili da superare. Parla di dubbi e di preoccupazioni che comunque rimangono. Per questo si prevede di intensificare l'impegno e di adottare tutte le iniziative e mirate a garantire un servizio quanto più aderente alle necessità e alle esigenze del territorio, ribadisce il sindaco. Probabilmente nei prossimi giorni ci saranno i primi contatti tra Palazzo di Città e l'amministratore delle impianti SRR, l'ingegnere Giovanna Picone. Il sindaco ha affidato l'interim del settore rifiuti in attesa di individuare un nuovo dirigente all'avvocato Mario Picone che coordina gli uffici degli affari legali. Lo stesso Greco inoltre non trascura l'aspetto occupazionale visto che impianti SRR dovrà assorbire più di 100 lavoratori. Da mesi i sindacati chiedono assunzioni a tempo indeterminato che però allo Stato non sono praticabili vista la forma giuridica della stessa impianti. Secondo Greco il nuovo servizio non potrà intaccare in alcun modo i diritti dei lavoratori e dovrà garantire tutti gli standard di efficienza ed economicità. Per il servizio rifiuti si apre un nuovo capitolo con le attività affidate alla società pubblica della SRR4. Greco già preannuncia che disporrà controlli piuttosto rigidi affinché si rispettino tutte le condizioni del contratto. Allo stesso tempo, proprio ieri, oltre alla nomina ad interim del dirigente Picone, Greco ha provveduto alla nomina come dirigente supplente del settore ambiente dell'architetto Emanuele Tuccio. La cronaca fiamme nella notte ad un'attività commerciale in corso Salvatore Aldisio. L'incendio ha colpito un esercizio per la vendita dei prodotti caseari. Sul posto sono arrivati i carabinieri vigili del fuoco. Il rogo si sarebbe sviluppato dopo la mezzanotte. Non è chiaro se ci siano dei danni. Comunque i militari dell'arma hanno avviato le indagini. L'incendio sarebbe di natura dolosa. Dopo ben quattro tentativi portati avanti negli ultimi anni, il libero consorzio di Caltanissetta ha finalmente affidato il cartodromo di Contradazai. La struttura abbandonata per anni nel degrado è stata affidata per i prossimi 15 anni alla Finmedia, società editrice di TeleGela. Una scommessa che nasce da una grande passione, dalla voglia di investire sul territorio. L'obiettivo è quello di rilanciare la struttura, non solo per le sue enormi potenzialità legate alle manifestazioni sportive, ma anche e soprattutto come sede di grandi eventi e concerti dal vivo. Sentiamo. Ci sono voluti ben quattro tentativi negli ultimi anni, tutti effettuati attraverso bandi e evidenza pubblica, ma alla fine il libero consorzio di Caltanissetta è riuscito a affidare il cartodromo di Contradazai. L'impianto sportivo, un tempo fiore all'occhiello del circuito motoristico siciliano e nazionale, è poi abbandonato al degrado e ai vandali. Ad aggiudicarsi la gestione del circuito è stata la Finmedia, la società editrice di TeleGela, che da adesso scenderà in campo per rendere fruibile e aperto al pubblico il cartodromo gelese. La durata della locazione è fissata a 15 anni con un investimento da parte della società di circa 35.000 euro. Il canone annuo è fissato a poco meno di 10.000 euro, ma per i primi tre anni sarà detratto dalle spese sostenute per la rifunzionalizzazione completa dell'impianto. Una scommessa che nasce da una grande passione e dalla voglia di investire sul territorio, come conferma Luca Maganucco, uno dei soci di Finmedia che nella struttura aveva già lavorato nei primi anni di apertura. È un'opportunità, un'opportunità per Finmedia, un'opportunità per il territorio, che si concretizza perché finalmente manca la parte politica, cioè la regia non è più della politica. Non avere avuto una provincia con un presidente e con tutta una filiera di politici al seguito è stato un vantaggio perché l'affidamento avviene tramite un regolare bando, quattro volte proposto, la quarta volta abbiamo partecipato due interessati a volere rilanciare questa pista, perché lo voglio ricordare anche quell'altra associazione che non ha vinto, nascondeva dietro degli appassionati, che comunque sono ben accetti in questo programma di rilancio. Adesso per i nuovi affidatari c'è da rimboccarsi le maniche per riportare in auge un circuito che era arrivato a ospitare gare nazionali e internazionali e che ora invece è stato quasi interamente distrutto dai vandali. I rimpianti non contano nulla, adesso bisogna soltanto rimboccarsi le maniche, chiediamo, ci rivolgiamo agli appassionati, i primi agli appassionati, quelli che vengono qui in questa pista inconsciamente a scavalcare Cangelli, oggi in una pista non più adatta, non più in condizioni ad ospitare nessuno, perché ha subito troppe azioni vandaliche, è distrutta completamente, hanno rotto anche i water, il lavabo, non si capisce per quale motivo. Perciò dateci tempo, dateci tempo di ripristinare tutto, di sistemare circa 150 mila euro di azioni vandaliche e furtive che nell'inguranza di tutti sono state perpetrate in questa struttura. Abbiamo la voglia di farlo, ma non dovete entrare, perché se qualcuno si fa male il rischio è forte di chiudere per sempre questa struttura che non merita questa fine. L'obiettivo è quello di rilanciare la struttura non solo per le sue enormi potenzialità legate alle manifestazioni sportive e motoristiche, ma anche e soprattutto come sede di grandi eventi e concerti dal vivo. Pensiamo all'Anicam Jam Festival, è una struttura che nasce a Imola, ma perché Imola sì e il cartodromo di Gela no? Qui ci sono 11 ettari di aria, utilizzabile sono più di 10,5 ettari di terreno, tutto recintato, o almeno lo recinteremo un'altra volta, perché 450 metri di recinzione è stata rubata, ma questo non conta perché in due o tre mesi noi pensiamo di sistemare tutto. Quindi potremmo anche ospitare dei concerti, potremmo tornare a ospitare gare titolate. Abbiamo voglia di fare e con voi appassionati, e non solo appassionati, qui si può veramente rilanciare il territorio e creare anche qualche altro posto di lavoro. Era già stato arrestato negli scorsi mesi, dopo che i carabinieri trovarono armi e munizioni nella sua abitazione. Ieri un minore gelese, appena 15 anni, è stato nuovamente fermato. Questa volta sono stati i poliziotti di Niscemi a bloccarlo, pare avesse con sé circa 7 grammi di cocaina. Secondo gli agenti erano destinati allo spaccio, è stato individuato proprio a Niscemi. Il minore si presenterà davanti al GIP del Tribunale di Caltanissetta per l'udienza di Convalida. Attualmente è stato collocato in un centro di accoglienza e destinato ai minorenni. La politica agli alleati del sindaco Lucio Greco, in una fase di incertezza politica, attendono un segnale per un confronto. È ritenuto necessario alla luce di quanto verificato sia anche in aula consigliare i renziani di Italia Viva, intanto nei prossimi giorni faranno le loro valutazioni. Il sindaco Lucio Greco in queste settimane si trova ad affrontare una fase non semplice, sia a livello amministrativo che sul piano politico, ha dato priorità ad alcuni settori come le servizio rifiuti, con la decisione finale di dire sì all'in-house, seppur tra tanti dubbi. C'è anche la vicenda dei dirigenti che necessita di una conclusione che non metta a rischio gran parte dell'attività burocratica dell'ente. Alcuni alleati dell'avvocato tra le emergenze mettono pure quella politica. Il sindaco si è trovato di fronte a numeri, soprattutto in aula consigliare, decisamente poco incoraggianti sia il consolidato 2020 che il piano della polizia municipale sono stati approvati solo per la presenza di parte dell'opposizione e di consiglieri del gruppo misto, che al momento non hanno alcuna intenzione di fare da coprotagonisti dell'alleanza del sindaco. Così i suoi attendono un confronto forse decisivo, sono tanti i fronti aperti e spicca quello dei finanziamenti e dei programmi di investimento. I progreco vogliono arrivare alla conclusione del mandato lasciando segni tangibili alla città. Nessuno sembra volersi accontentare. I civici hanno confermato la loro fiducia al pari dei centristi. La nomina dell'assessore Romina Morselli ha anche ribadito un certo rapporto politico tra il sindaco e l'ala dei fedelissimi. L'altro lato della medaglia invece vede numeri che non ingranano e alleati, ormai diventati quasi ex, è il caso dei consiglieri comunali di Liberamente. Gli azzurri di Forza Italia rimangono sempre sul chivala, mai visti di buon occhio dalla la civica greco in consiglio comunale non si è nascosto e anzi in maniera sempre più convinta ha fatto un appello ai responsabili al di là degli schieramenti. Sembra presto per capire se ci sarà una risposta. Sicuramente nel centrodestra ci sono partiti dalla Lega Fratelli d'Italia che tutto sembrano salvo che intenzionati a rispondere all'appello dell'avvocato. Stessa cosa si potrebbe dire per il Movimento 5 Stelle e per il PD che comunque seguono uno spartito politico difficilmente comparabile a quello dei gruppi che vanno per la maggiore nel centrodestra. Il sindaco è consapevole che si gioca molto su certi temi presenti nel programma di tre anni fa. Sui rifiuti ha voluto sondare il campo cercando di creare un'alternativa alla soluzione impianti SRR4 senza troppe vie di fuga. Ha dovuto dire sì all'inaus. L'amministrazione sta cercando di accelerare su altri settori dalle infrastrutture con l'eterno porto ancora bloccato nei meandri della burocrazia regionale e ministeriale fino agli strumenti di pianificazione. Non a caso Greco città spesso il CIS anche se qualche alleato vorrebbe anzitutto chiudere con quello che già c'è a disposizione come i 30 milioni di qualità dell'abitare. È inevitabile che i progreco vogliano contarsi e capire chi vuole continuare a sostenere il progetto. I renziani di Italia Viva che sostengono Greco e hanno responsabilità su un settore molto delicato come l'ambiente con il servizio rifiuti si sono dati appuntamento nei prossimi giorni. Forse prima ancora che il sindaco convochi tutti gli alleati intorno allo stesso tavolo gli esponenti di Italia Viva trarranno le loro conclusioni. Pare infatti che le perplessità non manchino ad iniziare da come stanno andando le cose nel settore affidato anche se l'intesa tra l'assessore Cristian Malluzzo e il primo cittadino sembra comunque esserci. Una verifica di maggioranza potrebbe servire a mettere le cose in chiaro seppur i precedenti non siano incoraggianti. Un presidio importante per la Scramble Therapy all'ospice dell'ospedale Vittorio Emanuele nonostante le tante difficoltà che patisce l'intera sanità locale il primario Giampaolo Alario ieri ha dato il via ad una fase considerata innovativa proprio per la terapia del dolore. Il sistema della Scramble Therapy infatti attraverso onde elettromagnetiche non invasive può agire sia sul dolore oncologico che su quello cronico benigno. Alario conferma che non si tratta di una terapia invasiva. Da oggi col sistema acquisito da ASP in città c'è un nuovo centro di Scramble Therapy. La regione ha autorizzato le modifiche all'AIA già rilasciate alla società petroltecnica che opera in raffineria. L'azienda gestisce un impianto per il trattamento di terre di bonifica contaminate. I tecnici dell'azienda hanno chiesto di rivedere alcune delle prescrizioni inserite nell'autorizzazione integrata ambientale. L'impianto avviato dalla riminese petroltecnica entrò in produzione alcuni anni fa in raffineria all'isola 15 del sito di Contrada Piana del Signore. L'azienda infatti gestisce un sistema per il trattamento di terre da bonifica. Petroltecnica ottenne tutte le necessarie autorizzazioni regionali anche se ci furono osservazioni molto dubbie giunte soprattutto dal Consiglio Comunale. A distanza di qualche anno dall'avvio dell'impianto sul quale l'azienda appuntò molto i funzionari del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti hanno autorizzato delle modifiche dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata all'azienda romagnola che in Sicilia opera anche in altri siti produttivi. I responsabili di petroltecnica rispetto all'AIA per l'impianto all'isola 15 hanno avanzato una serie di osservazioni su prescrizioni che erano state inserite e che vanno riviste. Dopo le valutazioni del caso il Dipartimento palermitano ha autorizzato le modifiche all'autorizzazione integrata ambientale. Le variazioni sono state ritenute non sostanziali quindi non incidono sull'efficacia complessiva dell'AIA che venne emessa consentendo l'avvio del processo produttivo dell'azienda. Quello dell'isola 15 fu da subito ritenuto un impianto pilota eventualmente da prevedere anche in altri siti produttivi. Le terre contaminate che vengono trattate sono destinate ad essere convertite in materia prima riutilizzabile incidendo sul ciclo dei rifiuti pericolosi. La regione ha dato il proprio assenso alle modifiche indicate dai tecnici dell'azienda che quindi potranno procedere in base a quanto indicato senza che questo possa incidere sull'iniziale AIA già rilasciata per il tipo di produzione prevista con l'impianto presente in raffineria. Proprio l'impianto è stato ideato anche per lavorare le terre esterne e non solo quelle contaminate dal ciclo degli idrocarburi. Il percorso di qualità dell'abitare deve riprendere con celerità così da evitare qualsiasi ritardo e l'ombra del definanziamento. A Palazzo di Città il Ministero delle Infrastrutture ha riconosciuto finanziamenti per un totale di 30 milioni di euro da destinare a due vasti progetti di riqualificazione urbana che toccano più aree della città. Il settore sviluppo economico con il vice sindaco Terenziano Di Stefano continua a monitorare i vari passaggi, l'assessore all'indomani del SIE finanziamenti ha attivato un tavolo tecnico. Il Ministero ha concesso un anno per arrivare almeno alle gare e il sindaco Lucio Greco ha comunicato l'intenzione di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro con professionisti esterni che facciano da supporto per la progettazione. E' tutto, il nostro telegiornale termina qui, per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it, adesso vi lascio alle previsioni meteo, grazie per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.